Ciao amici, come state? Spero tutto bene! Oggi ritorniamo nella serie di Keplerians News! Ebbene sì, Keplerians hanno pubblicato un video con delle novità veramente molto importanti e lo voglio analizzare qui con voi. Prima di partire, lasciate qui sotto tantissimi like, iscrivete al canale con la campanella attiva. Ma adesso direi di partire, cominciamo e vediamo insieme questo video che tra l'altro si chiama Glitchmer, Work in Progress, Christmas Update e poi anche novità che riguardano Evil, Nand, Broken Mask. Quindi tocchiamo play e si parte! Ok, c'è sempre la solita intro dei Keplerians, che ormai la ricordiamo a memoria con la cinepresa che comincia a girare e nel frattempo che si proietta lì sul proiettore, sul telo bianco il logo dei Keplerians, Keplerians News. Beh, dopo tanto tempo! E là, come va? Il 2024 è quasi finito! E vogliamo mostrarvi gli ultimi aggiornamenti il 19 novembre. Allora, lanceremo le copie fisiche di Evil, Nand, Broken Mask! Uh! Copia fisica! Se ho piaciuto le skin di Halloween, beh, devo dire che mi sono piaciute! C'è altri in arrivo nelle prossime festività! E vogliamo darvi un'anteprima del nostro Work in Progress su Glitchmer! Eccoli qua, guardate, nuova anteprima ufficiale di Glitchmer! Ok, fanart della settimana, ma io direi che ormai è fanart del mese, visto che vanno un Keplerians News una volta al mese! Vabbè, e vediamo qui, va? Ciao a tutti! Benvenuti in Keplerians News! Vediamo queste novità! Facciamo parte... Ah, vabbè, qui parla di Discord... Non ci interessa in questo momento! Vediamo un po' le cose più importanti, invece! Diciamo quelle che possono interessarci maggiormente per quanto riguarda i giochi! News numero 3! Ok, Yvon Nandebrock & Musk, l'edizione fisica di Yvon Nandebrock & Musk arriverà nei negozi il 19 novembre! Edizione fisica! Saremo presenti allo showroom Nintendo di Madrid per presentare la Unolio Edition alla stampa e ai creatori di contenuti! Uh! Guardate qua! Copia fisica di Yvon Nandebrock & Musk, proprio con il CD, il DVD qualche è, che si prende e si inserisce dentro la console Per giocarci! Ehi, solo che io non ho nessuna console, quindi non posso... Cioè, non ha senso per me comprare la copia fisica! E tanto, vabbè, ho già la versione per PC che è uguale! Però, ecco, la particolarità è che chi compra la copia fisica riceve un omaggio qui sotto... Aspettate, vediamo se riesco a farvi vedere... Un libro! Proprio un libro segreto! Un artwork con tutti quanti i segreti! Ecco, quello in realtà mi sarebbe piaciuto averlo, perché secondo me ci sono dei segreti particolari! E sarebbe stato bello analizzarli qui con voi! Quindi vedo se in qualche modo riesco ad ottenere questo libricino da analizzare! Perché sarebbe molto bello, no? Vederlo insieme! Ma proseguiamo qua! Ok, questa edizione sarà disponibile in Nintendo Switch e PlayStation 5! Puoi preordinare questa edizione sul sito web di Meridem! Vabbè, qui c'è il sito internet! Se uno è interessato a comprarlo, lo può trovare lì! Non lasciare che esistere Madeline ti prenda! Eh, eh, tanto mi ha già preso chissà quante volte! News numero 2! Ok, vogliamo darti più contenuti nei giochi precedenti! Eccoli qua! Quest'anno ci siamo concentrati maggiormente sulla sperimentazione di novità dei nostri giochi più vecchi! E continueremo a fare alcuni test per migliorare meglio i nostri giochi! I tempi stanno cambiando, così come il mercato, e dobbiamo adattarci! Siamo anche profondamente impegnati nello sviluppo di Glitchmer, con l'obiettivo di crescere come azienda e offrirti nuove esperienze! Durante la festività natalizia potremmo avere in serbo alcune sorprese entusiasmanti! Bello! Vai, avanti, inizia a creare la tua lista dei regali di Natale per Babbo Natale! Aspettate, aspettate, torno un po' indietro! A quanto pare... Sapete cosa significa questo? I Keplerians hanno intenzione di aggiornare, continuare a supportare anche i giochi più vecchi! Come ben sappiamo, ormai le serie di Ice Cream, Mr. Meat e Von Nann sono serie che ormai sono diventate vecchie! Soprattutto anche i giochi più popolari dei Keplerians sono vecchi! I Keplerians, a quanto pare, vogliono aggiornare questi giochi, vogliono migliorarli per renderli al passo con il tempo! Se ci pensiamo, il mondo dei giochi horror è cambiato! Quindi i Keplerians vogliono appunto che i giochi, anche quelli più vecchi, rischino al passo con il tempo e quindi continueranno ad aggiornarli! Questa è una cosa buona, perché significa che avremo aggiornamenti continui anche per gli altri giochi! Quindi anche se la serie di Ice Cream è finita, questo lo dico soprattutto per i fan di Ice Cream che mi chiedono ogni volta di continuare la serie anche se è finita, significa che nonostante la storia ormai è finita lì, il gioco continuerà ad essere aggiornato! Quindi ci saranno altre novità! Quindi sicuramente piacerà ai fan di Ice Cream, però diciamo che secondo me la cosa più importante è Glitchmer, perché con Glitchmer finalmente avremo anche qualcosa di nuovo, una nuova serie, una nuova storia con nuovi personaggi, e io sono veramente in grande hype per questa nuova serie! Ok, adesso andiamo avanti qua, vediamo con la prossima news, news numero 1! Ok, Glitchmer work in progress, stiamo ancora lavorando su Glitchmer, stiamo ancora lavorando su miglioramenti e modifiche basate su vari fattori, incluso il tuo feedback e quello che abbiamo ricevuto all'Indie Dev Day! Eh sì, perché l'Indie Dev Day c'è che ha potuto giocare alla beta e ha potuto fornire feedback! Nel frattempo qua potete vedere ad esempio delle schermate di gioco, ok? Ok, si ci abbassa... Guardate, ci sono le mani del player! Questa è la novità! Cioè più o meno, adesso vi spiego tutto! Cosa succede con quella cartuccia? Uh, Totemic! Stiamo ancora lavorando a nuove avventure per te! Restate sintonizzati sui nostri social! Il tuo feedback è molto importante! Ok, il video di Key Playerance News è finito qua, ma adesso cerchiamo un po' di capire, no? Quali sono le novità molto importanti che sono state presentate? Vabbè, la prima l'abbiamo vista poco fa, ossia la versione fisica di Evil Nun and Brokeen Musk che include anche un libro! Secondo me, ecco, la cosa che più mi interessa non è tanto quella di avere la copia fisica perché il gioco ce l'ho già, è vero che è su PC però il gioco è quello! Cioè se voglio ci posso giocare anche ora! Però la cosa più bella, quella che più mi interessa è il libro perché sono veramente curioso di vedere che cosa c'è! Ma poi, sempre tornando indietro alla questione dei giochi che vengono aggiornati costantemente secondo me i Key Playerance stanno preparando un aggiornamento di Natale per quanto riguarda Ice Cream 8 loro hanno accennato alle skin di Halloween quindi non è escluso che posso uscire molto presto, nel mese di dicembre un aggiornamento natalizio dell'ottavo capitolo quindi con delle skin di Natale chissà cosa succederà, sono veramente molto curioso però secondo me non aggiorneranno soltanto Ice Cream 8 perché se no sarebbe sempre il solito aggiornamento con altre skin secondo me ci sarà anche qualcos'altro e lo spero perché comunque più cose vengono aggiunte e più diventa bello l'aggiornamento, no? E in più invece per quanto riguarda Glitchmare qui possiamo notare appunto che ci sono già delle anteprime ufficiali innanzitutto possiamo notare che vediamo se riesco a tornare un po' indietro ok, perfetto questo è uno scenario di gioco con appunto la cosa della polizia però guardate bene la grafica è vero che vabbè qua vediamo un po' una grafica un po' spigolosa, un po' squadrata perché qua vediamo appunto gli oggetti che sono quadrati però vabbè ricordiamoci che siamo su un gioco per telefono quindi è normale che la grafica sia un po' squadrata se fossimo stati su PC invece sarebbe stato diverso però possiamo già notare appunto che ci sono dei miglioramenti per quanto riguarda invece i giochi precedenti di Kepler e lo possiamo notare anche qua durante una scena che si vede lì, guardate, lì c'è il condotto tra poco noi ci possiamo accovacciare e durante l'accovacciamento possiamo proprio vedere le mani che si muovono con una certa animazione in realtà le mani non è che sono state introdotte su Glitchmare per la prima volta le abbiamo viste su Mr. Meat 1 e Mr. Meat 2 solo che in quei capitoli si vedeva soltanto le mani quando prendevamo gli oggetti in mano questa volta invece abbiamo proprio delle mani che si muovono durante anche quando ci accovacciamo anche quando interagiamo con determinate cose e tra l'altro vi ricordate che nei giochi precedenti quando noi interaggevamo con degli oggetti c'era il cerchiolino che girava per farci vedere quando appunto l'interazione finiva qui invece possiamo vedere che c'è proprio un'animazione con le mani quando interagiamo ad esempio quando andiamo qua sul Totemic facciamo vedere qua su muoviti dai che devo far vedere sta scena perfetto ci avviciniamo lì al coso all'Arcade Machine come potete ben vedere ci sono proprio delle mani che vanno ad interagire con una certa animazione e non c'è più il cerchiolino che gira che ci fa vedere la durata di questa animazione quindi io mi aspetto veramente una grande cosa l'unica cosa di cui sono preoccupato è che su Glitchmare non abbiamo ancora la pre-registrazione quindi mi sa che sto gioco uscirà molto molto più avanti non lo so metà 2025 o non ho idea comunque mi sa che dovremmo aspettare un po' di tempo quindi che dire altro da vedere per il momento non c'è fatemi sapere in questo commento cosa ne pensate spero che questo video vi sia venuto se vi è piaciuto mi racconto spoliciate così vi vedete iscrivetevi al canale con la campanella attiva e ci vediamo per i suoi video come sempre vi auguro buona giornata buone salate buonanotte ciao a tutti e buon panino a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti